e vi do il benvenuto all'angolo del crimine. Non è facile parlare di questo caso, non è facile parlare di bambini a cui viene rubata l'innocenza e anche la vita ed è ancora più difficile ascoltare storie di infanzia violate, quindi se non ve la sentite chiudete il video e fate altro. C'è sempre un certo pudore nel parlare di bambini perché niente di ciò che racconterò dovrebbe mai riguardarli. Loro dovrebbero solo giocare, andare a scuola, fare i capricci, fare i bambini insomma, però a volte questo non accade e sta a noi adulti preservarne la memoria, ricordare a tutti che questo può accadere perché è già accaduto. Oggi vi racconto la storia di Cristina Capoccitti, la piccola Biancaneve. Ci troviamo in Abruzzo e precisamente a Casecastella, frazione di Balsorano, al confine fra Lazio e Abruzzo. Un pugno di case adagiate sulla valle del Roveto, un posto dove sono tutti i parenti. Ecco perché quando la sera del 23 agosto 1990 la piccola Cristina Capoccitti non fa ritorno a casa, l'eco del suo nome, urlato da chi la stava cercando, raggiunge ogni fessura, anfratto, casa e casolare. È piena estate, un'estate caldissima in città fredda a valle, l'estate in cui appena 16 giorni prima si era aperto il giallo di via Poma, l'estate di Italia 90, l'estate in cui Cristina Capoccitti improvvisamente scompare. La cercano tutti quella notte, la piccola Cristina, sei anni in procinto di compierne sette. Le torce elettriche fendono il buio come piccole fiaccole nella notte, la cercano sfidando l'oscurità della boscaglia che seconda Balsorano, sfidando la paura di non ritrovarla, o di ritrovarla forse. A trovarla in un'alba livida e fredda è Bambi, il pastore tedesco dei carabinieri, a cui avevano fatto odorare un indumento della piccola e lui, ignaro, si era lanciato dietro quell'odore, l'odore di una bambina dai capelli neri a caschetto e che, a contrasto con la pelle chiarissima, la faceva sembrare una piccola Biancaneve. Ed è così che la chiamavano tutti Cristina, Biancaneve. Una bimba dolcissima, dal carattere però molto deciso e, come tutti diranno, molto più matura della sua età. Cristina aveva spirito di intraprendenza, era una piccola leader, aveva quel carisma particolare che hanno certi bambini, lo sguardo vispo e la parlantina veloce, amatissima dai suoi genitori e dal fratello maggiore, Samuele. Cristina era un uragano di simpatia e voglia di vivere. Eppure, adesso, se ne stava lì Cristina, dentro un fossato poco profondo, semi nascosta in mezzo a un cespuglio di Rovi, a pochi metri da casa, in località Casecastella, piccola frazione dove vivevano i capoccitti. Aveva addosso la sua canottierina bianca ai calzini, anch'essi bianchi. Qualche metro più in là le sue scarpe da ginnastica, i pantaloni della tuta fucsia e gli slip macchiati di sangue. A guardarlo, quel corpicino martoriato, sembrava che non le fosse stato risparmiato nulla. Cristina era stata brutalizzata, il suo corpo martoriato e il cranio spaccato. Una pietra acuminata intresa del suo sangue verrà ritrovata accanto a un muretto di cinta. Era come una bambola rotta, una macchia bianca che si stagliava sul nero dei Rovi e della boscaglia. Chi l'aveva uccisa? Ci aveva provato a violarla, ma non ce l'ha riuscito. Lo aveva stabilito l'autopsia effettuata all'ospedale di Avezzano, chiarendo anche le cause della morte. Asfissia meccanica. Chi aveva ucciso la piccola aveva usato entrambe le mani. Con una le aveva stretto il collo, con l'altra le aveva tappato la bocca. Ma c'è un altro fatto sconvolgente. Tutto era avvenuto ad appena 200 metri da casa. Il giorno dopo, Case Castelle è accartocciata nel proprio dolore. La loro piccola biancaneve, il suo sorriso contagioso, la sua voglia di vivere, tipica di qualsiasi bambino della sua età, non esistevano più. Tutta la valle del Roveto si stringe per consolare i genitori di Cristina, Dina Valentini, di 30 anni, e Giuseppe Capoccitti, 34, portantino all'ospedale di Avezzano, e il suo fratello maggiore, Samuele, di 13 anni. E quando la notizia raggiunge i media, il paese viene invaso da truppe televisive e giornalisti, che a suon di dirette faranno la spola fra il luogo di ritrovamento e la casa dei Capoccitti. Le famiglie che alla sera, ormai da giorni, si sintonizzano per le ultime notizie sul giallo di Via Poma, aggiungono a quel carnet dell'orrore anche i fatti di Balsorano. È una domanda legge nell'aria. Chi era il bruto che aveva fatto scempio di Cristina? Forse qualcuno della zona? Qualcuno che quei boschi e quegli anfratti riconosceva bene? No, non è possibile, si difendono i balsonaresi. Nessuno di noi sarebbe capace di tanto. No, il mostro non è fra noi, ma forse non ci credono neanche loro. Gli inquirenti della procura di Avezzano, che nel frattempo avevano preso la casa di una parente dei Capoccitti come quartier generale, indagano su tutti i fronti. Dopo un po', però, decidono di circoscrivere le indagini proprio lì nella zona. E a casa Castella tutti tremano. Ma cosa aveva portato alla pista locale? Lo abbiamo detto. Cristina aveva, sì, sei anni, ma era molto sveglia. E mai si sarebbe allontanata con qualcuno disconosciuto. E poi aveva paura del buio. No, Cristina mai sarebbe andata dietro qualcuno di cui non si fidava. Come sostengono con forza Dina e Giuseppe. Ma è anche il luogo dove era avvenuto il brutale assassino di Cristina Capoccitti, che fece pensare ad una persona che conosceva la zona, che sapeva bene che fra quella fitta vegetazione sicuramente non poteva essere visto, e che avrebbe potuto facilmente sbarazzarsi del corpicino dentro quel fossato, per poi tranquillamente scappare per strada, magari in auto, in modo da raggiungere in fretta la vicina statale. A Case Castella ci vivono venti famiglie. Più che un paese, un borgo. Le case sono divise dal minuscolo centro da una scalinata che scende giù fino alla piazzetta. Luogo di ritrovo di bambini e ragazzini. Adiacente a Case Castella un altro borgo. Ancora più piccolo è dove abitano dieci famiglie. Case Martinelli. In quei piccoli borghi, abbarbicati sui monti, sono quasi tutti parenti. E questo spiega come mai la piccola Cristina e poi tutti i bambini del borgo, specie in estate, con la luce che allungava le giornate, avessero il permesso di uscire di casa, anche in orari in cui normalmente i bambini stanno in casa. Accade anche quella sera, la sera della sparizione. Cristina, dopo un pomeriggio trascorso in piazzetta, era rientrata in casa intorno alle 8, sollecitata dal padre che, dall'uscio di casa, l'aveva chiamata a gran voce affinché tornesse a casa. Dopo cena, Cristina chiese ai genitori di poter uscire nuovamente. Come faceva tutte le sere, perché fuori c'era ancora luce, e si sa, i bambini non sono mai paghi di giochi e chiacchiere in piazzetta. La piccina aveva afferrato uno yogurt dal frigo ed era uscita di casa. Prima di uscire però, ai genitori disse qualcosa a cui nessuno fece caso in quel momento. Non ci chiamate, so io quando devo tornare. E lo aveva ripetuto per ben due volte, quasi a volersi accertare che l'avessero sentita. Non ci chiamate. I genitori interpretano quelle parole nel modo più normale possibile. Cristina si sarebbe vista con le amichette in piazzetta e sarebbe tornata all'imbrunire. Perché Cristina era una bambina vispa e sveglia e sapeva benissimo come muoversi in quel borgo e quali erano le regole di casa. Peccato che alle 21.30 Cristina non avesse ancora fatto ritorno. Dina, la madre, uscì a cercarle in piazzetta, ma lì la sua figlioletta non c'era. Aveva bussata a tutte le case, specie quelle delle compagnette di Cristina. Sara, l'amichetta del cuore, era a Sora, con tutta la famiglia. Anche Agnese non era uscita di casa quella sera perché il nonno faceva il compleanno. Ed ecco che alla luce di quei fatti orribili, quelle parole suonano sinistre. Chi doveva incontrare Cristina quella sera se le amichette del cuore in piazzetta non c'erano? Per scoprirlo non restava che interrogare tutti. Gli abitanti di case Castello e case Martinelli, uomini, donne, anziane e bambini, vengono tutti ascoltati dal PM Pinelli in procura ad Avezzano. Nel tentativo di acciuffare qualche altro elemento utile rispetto a quelli che avevano già, come ad esempio l'ora della morte di Cristina. L'autopsia aveva stabilito che la piccola era stata uccisa fra le 20.30 e le 45, vale a dire pochi minuti dopo la sua uscita da casa. A Balsorano e dintorni scatta la psicosi. Tutti iniziano a guardarsi l'un l'altro pensando sarà lui il mostro. Sentimenti di vendetta, di giustizia sommaria trovano spazio nell'animo di quei cittadini investiti da quell'orrore. Se lo trovo, dice un signore davanti alle telecamere di una truppa televisiva, lo impicco al palo più alto. Frasi dettate dallo shock, probabilmente. Anche i genitori cedono ai media e si mostrano nel loro dolore sommesso. Dina si inghiozza in silenzio. Il suo viso è pallidissimo e affilato. Giuseppe invece finge una forza che in fondo non ha. I suoi occhi sono smarriti, come tutto il resto. E il 26 agosto tutta la valle del roveto si stringe attorno ai genitori di Cristina, per l'ultimo saluto a Biancaneve. Sfila la sua piccola bara bianca, tra la folla che invade il piazzale della chiesa Santa Maria dei Sassi, a Ridotti. Sfilano le telecamere che cristallizzano quasi senza pudore il pianto disperato di mamma Dina, sorretta da Giuseppe, che continua a mostrarsi forte, ma sembra sul punto di svenire pure lui. E chissà se fra quella folla non ci fosse anche l'assassino della piccola Cristina. Ormai tutti a case Castella si guardavano in cagnesco, anche tra parenti, terrorizzati dalla possibilità di stare gomita a gomito con il mostro di Balsonaro. Il tempo in quel luogo di Abruzzo è come sospeso. Tutti parlano in continuazione dei fatti di Balsorano. Persino i bambini, che ormai non uscivano di casa se non sotto stretta sorveglianza, non possono fare a meno di fare congetture. E proprio da loro parte la voce di uno strano personaggio che nel pomeriggio di giovedì 23 si aggirava per il paese, a bordo di una lancia tema, targata a Frosinone. L'auto sarebbe stata vista più volte ferma al bivio di una stradina che attraverso la frazione di Balsorano Vecchio portava alla Statale 82, cioè una delle probabili vie di fuga se l'assassino fosse fuggito in auto. A notarlo un ragazzino appassionato di auto e che non ha potuto fare a meno di ricordare il modello della vettura. Ma non solo. Il ragazzino darà anche una descrizione del misterioso personaggio, sui 40 anni, barbetta e occhiali neri. Ipotesi, piste, supposizioni che si accavallano, si inseguono, ma che alla fine portano alla prima conclusione. Il mostro di Balsorano non era un forestiero. Secondo una primissima ricostruzione, Cristina intorno alle 20 e 30 dopo essere uscita si era diretta a casa perché iniziava a fare buio. Ma lì, sul tragetto verso l'abitazione dei capocitti, aveva incontrato qualcuno che lei conosceva al punto da allontanarsi con lui, ma non solo che conosceva ma di cui si fidava. Un parente forse, forse qualcuno di molto vicino alla sua età, con cui la piccola Biancaneve stava giocando. Un giochetto innocente per una bambina che però all'improvviso doveva essersi trasformato in qualcosa che le ha messo paura. Aveva cercato di fermare il suo amico minacciando di dire tutto, aveva tentato di gridare, di chiamare aiuto, di fermare il suo compagno di giochi che invece con una forte stretta della mano alla gola l'aveva soffocata per non farla urlare visto che era così vicina a casa. L'aveva poi trascinata forse scaraventandola contro una grossa pietra e poi nascosta nel fossato tra la fittissima boscaglia. Dai controlli incrociati tra tutte le persone interrogate era venuto fuori che proprio un cugino di Cristina era stato l'ultimo a vedere la piccina. Lui si chiama Mauro Perruzza a 13 anni ed è il figlio della sorella del papà di Cristina. Era stato lo stesso Mauro a dirlo agli inquirenti. Il ragazzo racconterà di aver visto Cristina nel tardo pomeriggio, dirà che le aveva aggiustato la bicicletta e che poi insieme si erano diretti in piazzetta. Mauro si era intrattenuto con i suoi amici e Cristina con le sue compagnette. Dirà di essere rimasto in piazza fino alle 21 e di essere andato via insieme a Cristina. Lui era andato verso casa, lei a casa dell'amichetta Sara. Ma un momento, ma se l'autopsia aveva stabilito che Cristina fosse stata uccisa prima delle 21, come è possibile che Mauro l'avesse vista alle 21 incamminarsi verso casa di Sara? Ma non solo, Cristina sapeva bene che Sara non era in casa quella sera. Lo sapeva Cristina, sì, ma non Mauro, che quindi aveva mentito. Mauro verrà risentito dagli inquirenti fino al clamoroso colpo di scena. Mauro perruzza, nella notte fra il 26 e il 27 agosto 1990, confesserà di aver ucciso lui la cuginetta. Una notte lunga quella, che nessuno dimenticherà mai e che sarà ricordata come la notte dei misteri e che non finirà con quella confessione. Aveva resistito tre giorni Mauro, poi era crollato. Agli inquirenti dirà che quella sera, ad attirarlo nel boschetto, era stata proprio Cristina. La piccina voleva mostrargli degli animaletti, poi però, inaspettatamente, si era abbassato i pantaloni e Mauro l'aveva anche sgridata per quello, invitandola a rivestirsi. Cristina, spaventata da quella reazione, era scappata con i pantaloni ancora giù, era inciampata e cadendo aveva sbattuto la testa su un sasso. E Mauro, alla vista del sangue che frusciva dalla testolina di Cristina, aveva perso ogni controllo e senza quasi accorgersene aveva stretto il collo di Cristina e le aveva tappato la bocca affinché non urlasse. Aveva stretto fino a strapparle la vita, poi l'aveva lanciata dentro un fossato, in mezzo ai rovi. Davanti al giudice dei minori però, Mauro dà un'altra versione. La prima di tante. Dirà che non era stata Cristina a invitarlo nel bosco, ma era stato lui a convincerla a seguirlo, perché voleva possederla, come dirà lui stesso. L'aveva spinta per farla sdraiare, aveva sbattuto la testa sulla pietra mentre Mauro, senza ormai nessun freno, le sfilava i pantaloni e le mutandine. Ma non sarà in grado di portare avanti quello scempio e deciderà di soffocare Cristina per evitare che questa raccontasse alla madre quanto accaduto. È una sequenza dell'orrore che Mauro ripeterà più e più volte, modificando di volta in volta un particolare o un dettaglio. Alla fine le versioni fornite da Mauro saranno addirittura 17. Ma nonostante ritocchini e aggiustamenti vari, non vi erano dubbi. Mauro Perruzza era il mostro di Balsorano. Quella notizia si scaraventa sulla città come una bomba. Allo shock però segue una reazione violenta. Quando la notizia trapela, in molti si raduneranno per aspettare l'uscita di Mauro dalla caserma dei carabinieri. Una folla inferocita è pronta all'assalto e a nessuno verrà in mente che Mauro fosse poco più che un bambino. E a stento i carabinieri riusciranno a tirarlo via per portarlo al tribunale dei minori di Avezzano per un altro interrogatorio e per la convalida del fermo. Quella notte però sembra non finire mai per Mauro, che alle due del mattino si ritrova da solo, senza genitori pur essendo minorenne e senza avvocato, e chiede di parlare nuovamente con gli inquirenti, perché vuole raccontare come erano andate davvero le cose. E in quella notte dei misteri il ragazzo farà una rivelazione che lascerà gli investigatori sconvolti. Mauro Perruzza ritratta tutto quanto aveva detto, cioè di aver ucciso lui la cuginetta, e indica il padre, Michele Perruzza, come unico responsabile di quel brutale omicidio. «Mi sono inventato tutto, è stato mio padre a ucciderla», dirà Mauro agli inquirenti. Mauro Perruzza disegna uno scenario nuovo in quella tragedia, quello dove un uomo adulto, uno zio, si trasforma in un orco che uccide i bambini per motivi abbietti. In questa nuova e sconvolgente versione Mauro racconta di aver visto il padre allontanarsi con la cuginetta intorno alle 20 e 30, un fatto strano agli occhi di Mauro che, insospettito, li aveva seguiti fino al boschetto vicino casa, e proprio lì, in mezzo all'erba, il padre si era calato sulla povera Cristina. Aveva sentito le urla della cuginetta. Gli inquirenti si affrettano ad avvertire la stampa che Mauro aveva ritrattato e aveva accusato il padre, ma la notizia era già andata in stampa e non si poteva più tornare indietro. «Ormai abbiamo sbattuto il mostro in prima pagina», dirà sconsolato un cronista di nera. Niente di peggio per la carta stampata di una notizia bruciata, vecchia, superata. E quando al mattino tutti avrebbero letto di Mauro, allo stesso tempo avrebbero saputo dai telegiornali che il ragazzino si era rimangiato tutto, accusando il padre. Ma perché Mauro si era autoaccusato? Il ragazzo dirà di averlo fatto per proteggere suo padre e di essersi deciso a confessare quando il padre era stato prelevato in casa dei carabinieri per essere interrogato dal PM. Come d'altronde tutti in paesi in quei giorni. E in quel frangente aveva maturato la decisione di autoaccusarsi, racconta Franto. Aveva avvicinato un ispettore e aveva chiesto di poter parlare. Dirà anche di aver provato a togliersi la vita per il dispiacere per la perdita di Cristina, a cui era molto legato. Michele Perruzza, che nel frattempo stava raggiungendo il figlio insieme alla moglie Maria Giuseppa Capoccitti, entrerà in procura ignaro di tutto. Ne uscirà all'alba in manette, con la testa china, tenuto su da due uomini dell'arma, mentre uno sparuto gruppo di curiosi rimasti fino a quell'ora gli urlerà «Ecco il mostro, ecco il mostro!». Volevano linciarlo e scaraventare su di lui tutto l'orrore che provavano. Al contrario, Mauro, che uscirà dalla procura insieme alla madre, verrà accolto come un eroe che voleva sacrificarsi per salvare il padre. Ma incastrare Michele Perruzza, 40 anni, che nella vita faceva il muratore, quella notte non ci sarà solo il figlio Mauro, ma anche la moglie Maria Giuseppa, che agli inquirenti racconterà che intorno alle 21 e 30, il marito era rientrato in casa in uno stato d'animo indescrivibile, mentre ripeteva «Cristina è morta, Cristina è morta!». Michele gli aveva raccontato di essere stato con la nipotina e di averla portata in un luogo isolato, lì dove era morta. Ma chi è Michele Perruzza? Nel 1990 Perruzza aveva 40 anni e faceva l'operaio edile. Poche scuole per Michele, ma tanto, tanto lavoro. Uno che si spaccava la schiena dalla mattina alla sera. Da ragazzo era emigrato in Australia, c'era rimasto qualche anno, il tempo di racimolare qualche soldo e sposare, per procura, una sua compaesana, Maria Giuseppa Capoccitti. Era poi tornato in quell'angolo di Abruzzo per fare casa con Maria Giuseppa. Dalla loro unione erano nati tre figli maschi, Daniele, Mauro e Francesco, coetaneo di Cristina. Una vita semplice la loro. Maria Giuseppa, per aggiustare il bilancio familiare, oltre a tirare sui figli, lavorava in una ditta di Sora, in provincia di Frosinone. Michele era un tipo schivo, ruvido, di quella ruvidezza tipica di chi nella vita aveva sempre e solo lavorato. Parlava poco, non aveva vizi. Era uno, come si dice, tutto casa e lavoro, ma anche uno che non riservava particolari tenerezze ai figli o alla moglie. E sarà proprio lei, la moglie, Maria Giuseppa Capoccitti, a pochi giorni da quell'accusa infamante, a ricambiare le carte in tavola. Sì, perché la donna, a mezzo stampa, scagionerà il marito. Michele è innocente, dirà. Non ha fatto niente. È sempre stato con me. In un'intervista televisiva, quindi, Maria Giuseppa parlerà di pressioni da parte degli inquirenti, affinché la donna, nel primissimo interrogatorio, accusasse il marito. E sempre secondo quanto dice la donna, quando Maria Giuseppa proverà a smontare quell'impianto accusatorio, fornendo un alibi al marito, gli investigatori non le risparmieranno intimidazioni e minacce del tipo, se non confermi quanto hai detto, ti fai quattro anni di galera per complicità. In sostanza, la donna accuserà gli investigatori di averla costretta a puntare il dito contro il marito, per avvallare la versione di Mauro. Maria Giuseppa, però, dal momento in cui ritira le accuse verso Michele Perruzza, non tornerà mai più indietro e difenderà sempre il marito e il figlio Mauro. E possiamo solo immaginare il peso che questa donna ha dovuto portare su di sé, con tutte le contraddizioni del caso, attenzione, moglie del mostro di Balsorano, ma anche sorella del padre di Cristina, a cui quel mostro aveva tolto la figlia. Una donna dilaniata nel profondo, investita da una tragedia che la porterà a diventare una reietta per la sua stessa famiglia di origine, non degna del cognome che portava, come dirà il fratello Giuseppe Capocitti, perché aveva osato difendere il marito e scagionarlo da quelle accuse infamanti, e, ad aggiungere dolore alla sua vicenda umana, anche l'allontanamento del figlio Mauro che andrà in affida a un'altra famiglia, su disposizione del Tribunale dei Minori. Tragedie familiari che si intersecano e si inseguono, seppur su piani diversi. Ma per gli inquirenti ci sono elementi oggettivi che provano senza dubbio che Michele ci fosse dentro fino al collo. Ad esempio, nel corso di una perquisizione in casa Perruzza scoprono che il bagno di casa presentava una piccola finestrella che dava su un sottotetto in tegole. Ebbene, proprio lì verranno ritrovati un paio di slip da uomo macchiati di sangue. Sangue che apparteneva proprio a Cristina. Chi aveva indossato quelle mutande aveva certamente ucciso la piccola Cristina. Perruzza però nega, nega che quegli slip siano suoi e ribatte che se fossero state sue quelle mutande egli non sarebbe mai stato così stupido da buttarle dalla finestra. Come minimo le avrebbe bruciate. Per il PM invece non ci sono dubbi, quegli slip sono del Perruzza e prova ne è la perquisizione corporale ricevuta da Perruzza all'interno del carcere. L'uomo indossava degli slip che erano per taglia, misura e marca identiche a quelle trovate nel tetto di casa e diverse di ben due misure rispetto a quelle trovate addosso al figlio tradicenne. Ma non solo, nel cesto della biancheria sporca verrà anche ritrovata una canottiera con otto capelli scuri, medio-lunghi. Erano i capelli di Cristina. Altri abiti verranno ritrovati in un casolare di proprietà di Perruzza. Anche questi macchietti di sangue. E poi ci sono quegli elementi poco oggettivi a dire il vero che danno corpo e colore a quell'immagine di mostro del Perruzza e cioè che avesse la fama di avere attenzioni particolari nei confronti delle bambine del paese e seppur convinti della colpevolezza del cognato sia Dina che Giuseppe mai diranno di aver visto Michele in atteggiamenti strani con la loro figlia. Non abbracciava neanche i suoi figli, diranno, figuriamoci la nipotina. E poi, a parte Mauro a cui era tanto affezionata, Cristina non era solita andare dagli zii. E questo sarà qualcosa su cui spingerà la difesa di Perruzza al processo. Si dirà, ma se Cristina era così diffidente da non andare con gente di cui non si fidava, perché mai avrebbe dovuto seguire lo zio? Perché era pur sempre lo zio, ribatterà l'accusa. E poi tutti lo avevano visto il Perruzza in quella notte di treggenda mentre tutto il paese era alla ricerca della piccola Cristina. Lo avevano visto arrivare per ultimo, vestito di tutto punto, pulito e fresco come una rosa. Per nulla ha preoccupato per quanto stava avvenendo nella sua famiglia, mentre gli altri, pur di attivarsi subito, erano usciti di casa quasi in pigiama. Ma non tutti saranno disposti a credere a quell'accusa infamante e, come sempre accade nei casi mediatici, si aprirà il fronte degli innocentisti, pochi a dire il vero, che si contrapporrà a quello dei colpevolisti, il cui epicentro sarà proprio Case Castella, che, compatto, si schiererà a fianco dei genitori di Cristina contro il Perruzza. E, giusto per rimarcare la loro posizione, nottetempo apparirà una scritta all'antico lavatoio del paese, Michele e Maria Assassini, infilando quindi nel calderone anche la moglie, la Capocetti rinnegata, con la raccomandazione per quest'ultima di non osare venire a lavare lì i suoi panni, cosa che ai tempi si usava ancora a fare. Ed è con questo bel malloppo di prove e perizie che gli inquirenti chiudono le indagini e formulano per Perruzza Michele un'accusa pesantissima, omicidio volontario pluriaggravato, ratto a fine di libidine e occultamento di cadavere. Il processo di primo grado si apre a soli quattro mesi da quei fatti orribili. E si apre con un repentino cambio di casacca all'interno del collegio difensivo di Perruzza. Ai precedenti difensori viene affiancato un terzo avvocato che era stato in precedenza difensore di Mauro Perruzza, almeno fino all'archiviazione del procedimento per lo stesso reato di cui era stato accusato il padre. Peccato che i difensori di Perruzza avessero come pista alternativa da proporre al processo proprio l'accusa al figlio tredicenne di Perruzza, secondo loro il vero responsabile dell'omiglio di Cristina Capocitti. Quindi per ragioni di incongruenza e divisione il collegio difensivo si spacca e porta alla rinuncia del mandato dei primi avvocati di Perruzza. Ad ogni modo fra rinvii e cambi di avvocati il processo ha inizio e vede subito difese accusa darsi battaglia a colpi di perizie e prove. La difesa punta tutto sull'inattendibilità delle perizie scientifiche effettuate sui campioni di sangue ritrovati negli slip e l'esame dei capelli. Posto che nel 1990 non si poteva estrarre il DNA. La perizia su questi elementi era stata effettuata usando dei metodi che non garantivano l'attendibilità al 100%, come nel caso appunto dell'estrazione di DNA. Quindi, si chiede la difesa, come si fa ad accusare qualcuno senza sapere con certezza a che appartenessero il sangue o i capelli? La difesa suggerisce anche una terza via, cioè a uccidere Cristina sarebbe stato qualcuno di totalmente estraneo alla famiglia Perruzza. A nulla però varranno questi interrogativi perché la corte di Assise dell'Aquila il 15 marzo 1991 condanna Michele Perruzza alla pena dell'ergastolo. Decisivi sono stati i test del DNA sulle tracce di sangue su alcuni capelli trovati su una canottiera di Perruzza, ma anche la mancanza di un alibi per il muratore e le sue tendenze pedibili, nonché l'inattendibilità della ritrattazione della moglie. In aula, in un moto spontaneo, alla lettura della sentenza, scoppia fragoroso un applauso. Giustizia era stata fatta. Case Castella festeggiava la liberazione da quell'incubo. Il mostro era stato scacciato lontano da loro. Ma al processo d'appello, ecco un altro colpo di scena. Perruzza cambia di nuovo difensore. Questa volta si affiderà a un avvocato la cui reputazione era dovuta a un altro notissimo caso di cronaca, il delitto di Via Poma. L'avvocato, infatti, era lo stesso che aveva difeso Pietrino Vanacore, il portiere di Via Poma, è primissimo indagato. E anche questo avvocato punterà a gettare l'intera responsabilità del delitto proprio su Mauro Perruzza, sulla base di alcuni fatti. Intanto nessuno sapeva i passaggi che avevano portato Mauro a quella clamorosa ritrattazione. È perché si scoprirà che gli atti della ritrattazione di Mauro erano andati perduti. Nello specifico, un'audio cassetta dove era stata registrata l'accusa di Mauro al padre, non era stata catalogata nel fascicolo apposito. E qualcuno, pensate, ci aveva persino registrato sopra. Ma non solo, la difesa punterà anche sulle innumerevoli contraddizioni nelle varie versioni di Mauro. Ad esempio rispetto al luogo in cui avrebbe visto il padre uccidere Cristina. Un luogo che cambiava di versione in versione. In un primo momento avrebbe visto tutto da un muretto di contenimento dietro il quale si era nascosto. Poi cambierà versione e dirà di aver visto tutto nascosto dietro una cabina dell'Enel. Cambia di nuovo versione e dice di aver visto il padre e Cristina dal solaio di un capanno nelle vicinanze. Tre versioni, tre luoghi diversi. Eppure, nonostante l'appassionata difesa, l'esito sarà lo stesso. Ergastolo per Michele Perruzza, che verrà confermato anche in Cassazione. Gli avvocati però non si arrendono e decidono di presentare istanza di revisione sulla base di prove nuove venute fuori durante il famoso processo satellite a carico di Michele Perruzza e Maria Cristina Capocitti per il reato di istigazione all'autocalunnia. In quanto Mauro, in una delle sue tantissime versioni, a un certo punto accusò i genitori di averlo costretto a confessare e quindi ad autocalunniarsi. E questo era un reato. Queste prove che verranno fuori in questo nuovo procedimento, stranamente, non erano emerse precedentemente e verranno usate dalla difesa di Perruzza per far riaprire il caso. Ad esempio, si parlerà delle condizioni di visibilità di quel 23 agosto 1990, in una forbice di tempo che andava dalle 20.30 alle 20.45. È stato stabilito che in quell'asso di tempo la Valle del Rosato fosse completamente al buio, rendendo impossibile a Mauro vedere quanto stava accadendo nella boscaglia. Ma non solo. Per quanto riguarda il DNA rilevato negli slip sicuramente indossati dall'assassino, una nuova perizia effettuata con dei metodi un po' più all'avanguardia, visto che parliamo del 97, stabiliva che il DNA sui residui organici, in particolare sui resti di urina, trovati su quel paio di slip era compatibile con il codice genetico di Mauro e non del padre Michele. Neanche questo però sarà sufficiente a far riaprire il caso e la corte di assise dell'Aquila respingerà l'istanza. Michele adesso era certo, non sarebbe mai più uscito dal carcere. Ma mentre l'opinione pubblica festeggia il trionfo della giustizia, la tragedia non smette di soffocare l'anima e non appaga il senso di sconfitta che pervade tutti i protagonisti di questa tragedia. Non quello dei genitori di Cristina, Dina e Giuseppe, costretti a vivere con il dolore di aver perso una figlia in quel modo orribile. Non quello di Mauro, che verrà sdradicato dalla sua stessa famiglia e verrà adottato e su cui sempre penderà all'ombra del sospetto. Di Maria, reglietta da tutti, anche da Michele che non le perdonerà mai di averlo accusato quella prima volta e che nonostante tutto rimarrà l'unica a difendere quel marito che tutti chiamavano mostro. E non il senso di sconfitta di Michele che mai confesserà di aver ucciso la nipotina e che sempre griderà la sua innocenza. L'uomo morirà a Re Bibbia il 23 gennaio 2003 a causa di un infarto a soli 53 anni. Le sue ultime parole prima di morire sono state, dite a tutti che non sono stato io. Ai suoi funerali uno sparuto gruppo di parenti, assenti i figli e la moglie Maria. La sua tomba al cimitero di Ridotti, per uno strano caso del destino, sarà a pochi passi dalla tomba della piccola Cristina, unica vera vittima di questa tragedia umana, con lei che ha pagato per tutti e ha pagato il prezzo più alto. Biancaneve, dall'anima candida come la sua piccola bara, così candida che il suo assassino le ha risparmiato l'orrore della violazione e dello scempio. Così candida che ancora oggi, in quel borgo ormai semiabbandonato, ancora risuona l'eco delle sue risate di bambina. E si conclude così il mio video. Sono certa che tutti conoscevate questo caso, ma vi chiedo adesso, credete davvero che Michele Perruzza sia il vero responsabile? Io ho qualche dubbio, lo ammetto, ce l'ho. E tanto più che ho letto un'interessante inchiesta del giornalista Angelo De Nicola, e da cui ho tinto a piene mani per questo video, che in qualche modo vuole confutare questa condanna di Michele Perruzza. Si trova online e vi metterò il link nell'info box, perché è molto interessante. Ditemi che ne pensate e magari motivate anche la vostra risposta. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Attivate la campanella e troverete anche nell'info box il form per consigliarmi i casi. E a presto, con una nuova storia di crime. Ciao!